Padre Cultraro, un nuovo incarico prestigioso e importante nel ricordo del suo predecessore Monsignor Grazio Labbiso. Prestigioso certamente, ma anche impegnativo perché c'è da portare avanti quello che i miei predecessori, a partire da Monsignor Grazio Labbiso, hanno realizzato a favore di questa comunità, sia ecclesiale come anche sociale. Speriamo di poter, che questi progetti possano proseguire con la collaborazione di tutti. Qual è stato il suo primo pensiero dopo la nomina ricevuta dal Vescovo Gisana? Anzitutto quello di pregare per la comunità, perché mi sento pastore, quindi mandato a prendermi cura di questa porzione del popolo di Dio, che il Signore mi affida attraverso il Vescovo. E poi di poter avere attenzione, cura, premura per tutte quelle che possono essere le necessità degli uomini, dei miei fratelli e sorelle nella fede, in particolare per i poveri, i sofferenti, i bambini, i giovani e così via, e le famiglie. E come se questa città l'avesse le ali tarpate, per volare di cosa realmente è bisogno? Ma io credo che dovremmo un po' collaborare tutti, insomma, assumerci tutte le nostre responsabilità. Noi come Chiesa, e penso che in comunione con i fratelli Presbiteri stiamo, insomma, interessando una lettera, il Vescovo e noi alla città. Poi la responsabilità anche da parte di coloro che, insomma, amministrano la città, ma anche imprenditori. E le singole persone, insomma, tutti impegnarsi a favore di questa città. Se collaboreremo insieme, saremo anche capaci di volare alto. Fare rete, allora. Sì, fare rete, certamente. Ecco, parlando invece dei giovani, considerando che lei ha contatti con i giovani, cosa le chiedono i giovani? Cosa le chiedono? Innanzitutto di essere ascoltati e poi di avere fiducia in loro. È una chiesa aperta a tutti. Sì, è una chiesa aperta a tutti, sì.